mega milio ragazzi 521 milioni di dollari lotteria americana e ho fatto giocare questi numeri all'elen emilia quindi vediamo se chiudo il canale senza dirvi niente è perché abbiamo vinto la lotteria e siamo spariti quindi non arrabbiatevi con me ma magari aprirò un canale un po più avanti ok dai si scherza però è sempre bello sognare ragazzi è sempre bello pensare a cose così positive che comunque fanno bene e fanno divertire e poi vabbè alla fine c'è sempre da lavorare oggi venirei ragazzi programmi per domani un sacco buona pasca a tutti quanti e poi vi faccio vedere cosa faremo sarà divertente nascondiamo le uovette in giro qui e poi i bambini andranno in giro a cercare quindi facciamo una festicciola qua davanti sarà divertente io sono arrivato a casa e noi cominciamo la serata ciao quindi oggi è sabato ragazzi purtroppo la mia voce non c'è più però ho deciso di portare l'elen emilia in piscina perché fa un caldo pazzesco è arrivata chiaramente l'estate ma la mia voce direttamente fuori non è possibile fare un video con me sono troppo arrabbiato domani è pasqua e quindi per forza di mettermi in cesto non so due giorni fa è partita sta cosa a 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 americana garage si stanno aprendo tutti quanti ci divertiamo così vai let's go you can't get out go inside che le danze abbiano inizio oh ma e che è sta cosa iniziamo col primo cestino what a a a a a a ho fatto Nicole e le bambine ieri le hanno bollite e poi le hanno pitturate le teniamo un po' dopo praticamente sono 200 uova una cosa un po' difficile troppo divertente però belle mille non vedo l'ora di uscire stanno spiando dalla finestra le vedo ma è 200 uova siamo pronti le bambine stanno come i cavalli quando devono fare la gara partire ora partiamo dal centro qui tutti i bambini tutti i parenti sono fuori ora inizia la caccia alle uova per le bambine ovviamente nella la una come 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 E anche per quest'anno Pasqua è andata, la mia voce è ancora andata via, e Nicole mi ha fatto punto, mi ha detto fai inquadra il mio tavolo, inquadra il mio tavolo per Pasqua, guardate che carino il tavolo di Nicole, guardate che bello che è, Buon lavoro mamma, grazie a me, sì, tritip, cosa è il tritip, quindi cuciniamo questo che non ho idea che cos'è, tritip, cosa è il tritip, Nicole vorrei controllare il traduttore, vieni qua e diciamo, tritip, eh, Cipolo? 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 Trippoconiglio? Consiglio? You didn't even say that good. I mean it said nothing, trippoconiglio, forse è trippoconiglio? Tri tip? We put season a tri tip. I mean, it's seasoning, it's just season, tri tip is the cut of the, google what cut of the, google what cut of the cow is tri tip. So, bottom sirloin. Tagliata di manzo, no tagliata di manzo, babe, tagliata di manzo, sei tagliata di manzo. Tagliata di manzo. Pule. Diciamo che tra tutte e due in Econ siamo dei grandi cuochi di grill, vai, andiamo fuori ora, accendere il grill. Diciamo che da un bel po' che non apro questo grill, speriamo funziona. Yeah baby! Wow! Alla grande, ora, cuidiamo così, tutti i germi muoiono. Sera la voce, ragazzi, mi va giù. Pazzesco! Quant'è che non passo tempo qua nel giardino di fronte? Abbiamo tirato via le piante qui, abbiamo tirato via, perché vogliamo rifare un po' il tutto prima dell'estate. Bello, bello, iniziare a riusare questo pezzo di giardino. Un po' massacrato, eh? Che comunque, lo vediamo, di rimettere tutto in ordine. Carne è sul fuego. Yeah! Quindi siamo pronti per celebrare, Nicole ha preparato tutto. Abbiamo i nostri vicini, Vanessa! Marito! Hey Colin! Chiri, 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 chiri! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Cheers! Cheers! Buona Pasqua! Yeah! No, 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 no! So you go! Vino in Emilia! Vino in Emilia! Lì! E Camilla! Mangiano lì! Ok! Ok? ocurre. Ok? No, ok. Grazie a tutti